Si rientra da Grigento, Marco Zambuto, ex sindaco, si torna di nuovo in campo. Ecco, intanto una valutazione di questo momento politico che si sta attraversando anche in vista delle prossime elezioni regionali. C'è un gran fermento, 5 Stelle sceglie già il suo candidato. Ecco, il PD cosa farà? Cosa farà il centro-sinistra? Vedo una situazione politica a livello regionale estremamente difficile, anche devo dire confusa. Purtroppo la mancanza di un disegno di prospettiva, di un disegno di futuro che onestamente mi pare che riguardi tutte le forze politiche e quindi vedo una Sicilia priva di una prospettiva. Questo fa sì che chiaramente le nuove forze politiche giocano molto sulla condizione di oggi di grande delusione e disaffezione che c'è nel corpo elettorale e quindi giocano una partita che però non è esaustiva perché o si riesce a dare un disegno nuovo di una Sicilia dentro un contesto che è immutato oppure il rischio è soltanto che si vada a un momento elettorale dove si fa prevalere la voglia di pancia, di volere dare un voto contro piuttosto che un voto a favore. E questa è una grande responsabilità dell'attuale classe dirigente nel non avere costruito oggi un percorso di speranza e di futuro per questa terra. Ci saranno le regionali. Ci può essere un futuro impegno per Marco Zambuto? Tu sei stato candidato alle elezioni europee recentemente, alle ultime elezioni. Chissà magari ci sarà anche un impegno per le prossime regionali? Ma io penso che un impegno politico diretto per le regionali mia a oggi lo escludo. Io ho sempre fatto politica credendo nelle cose che ho fatto e che facevo. Nel momento in cui per le vicende di tipo giudiziario che mi sono capitate non ero più nelle condizioni di sentirmi pronto per continuare il mio impegno, mi sono messo da parte dando il segnale che per me la politica è servizio, che per me la politica non è poltrone, anzi ho lasciato e soprattutto per me la politica è il rapporto con il territorio, con la città. Ho pensato a dare alla giustizia le giuste risposte rispetto al mio operato. Oggi sono felice che rispetto a tutti i procedimenti che mi erano stati aperti e quindi la giustizia ha dato ragione rispetto al mio operato. Io sono uno che la politica la fa perché gli piace, la può fare in prima persona, la può fare avendo un incarico, la può fare anche senza avere incarico, la cosa importante però è occuparsi della vita sociale e della vita pubblica. Vedremo in avanti che tipo di impegno politico, se ci sarà un impegno politico diciamo nuovamente in prima persona, vediamo le condizioni che si creeranno. Io sono tornato nell'occasione della festa di San Calogero, che è un momento bellissimo della città, dove questa festa riesce ancora a mantenere una comunità unita, nonostante le grandi difficoltà che ci sono, le grandi difficoltà di natura economica che in ogni famiglia si vivono, la festa di San Calogero riesce a fare superare e vivere insieme dei momenti veramente unici di una comunità che oggi è in grande difficoltà. Per il resto ho visto una città alle prese con grandi problemi, irrisolti, ma più che altro la cosa che più ho potuto notare è la mancanza di dialogo, di punti di riferimento da parte delle persone, la mancanza di parlare con un interlocutore con il quale potersi confrontare, raccontare delle proprie esigenze, dei propri problemi e poter riuscire a dare una risposta in termini di crescita collettiva. Grazie a tutti.